Pennellate di mille colori. Pennellate di diversi colori vorrei dare a questo mondo per farlo diventare più bello ed accogliente. Vorrei dare una pennellata di color rosso vivo a tutti quei visi grigi con lo sguardo torvo e stanco per farli riposare in un mondo di serenità e pace. Una pennellata spalmerei di bianco lucente a quelle anime ormai annerite dal tempo per renderle di nuovo bianche e splendenti. Una pennellata di una tonalità di rosa corallo per gli spiriti che hanno perso ogni speranza e vivono come se non si aspettassero più nulla dalla vita. Una pennellata di azzurro fiordaliso per coloro che non credono più a niente per renderli coscienti che credere in qualcosa ne vale sempre la pena e ogni sacrificio. Una speciale pennellata di oro brillante per quella gente che ha gli occhi come spenti per renderli nuovamente felici e sorridenti. ed infine una pennellata di nuova vita dal colore dai riflessi di arancio a tutte quelle anime che ormai sono come sepolcri imbiancati per farle rivivere e dar loro un nuovo domani pieno di sincerità di amore e allegria.